Quest'anno WP Solar partecipa come espositore all'InterSolar, la più grande fiera al mondo delle rinnovabili e con degli obiettivi di sviluppo dell'internazionalizzazione del gruppo, grazie anche alla presenza del gruppo Taliran, quotato in Israele, con degli sotto obiettivi legati sia ai clienti italiani, quindi stiamo sviluppando per il progetto Parchi Agrisolari un servizio di consulenza per i nostri installatori, per il bando italiano e per quanto riguarda lo sviluppo in Europa con delle partnership che le stiamo incontrando in questi giorni a Monaco per quanto riguarda lo sviluppo del mercato internazionale. Quali sono i temi ancora cardine per questa nostra esposizione all'InterSolar? Soprattutto il mercato, il segmento del CNI, segmento in forte crescita legato anche a nuove soluzioni storage che presenteremo sia di media che di grossa taglia e legato anche a soluzioni di partnership nella distribuzione di prodotti in questo mercato, molto bello ma sempre competitivo.